... Detenere dei segreti e poter ricattare qualcuno è certamente qualcosa che è sempre stato uno degli elementi del potere. Sì, adesso però su due piedi purtroppo non mi viene in mente la pazienza un esempio specifico da poter citare. ...delle nostre conoscenze, però poi noi sentiamo anche da un po' di anni le richieste, però nelle biblioteche non esisterebbe. Sotto il regime fascista l'Italia era governata da una classe politica che mentre ufficialmente rispondeva a meravigliose parole d'ordine di fedeltà al capo, di lealtà, di sacrificio, di onore poi in realtà nei casi in cui i miei colleghi sono andati a studiare come concretamente funzionava la vita politica sotto il regime fascista intendo dire proprio le carriere degli uomini di potere e proviamo anche a raccontarlo oltre a risponderne tra colleghi il ricambio dei federali al governo del partito nelle varie province ecco lì è straordinario come la vita politica del partito fascista regolata dall'alto da Mussolini che era abbastanza al corrente di tutto fosse tutta basata poi sul distruggere l'avversario politico il concorrente facendo saltar fuori le notizie sulle sue preferenze sessuali o sui suoi scandali economici ecco, nell'Italia degli anni 30 si diventava federali del partito nazionale fascista e poi si veniva buttati fulminamente fuori e mandati al confino pochissimo tempo dopo con grandissima frequenza sulla base di dossier raccolti dai propri avversari politici